Capitolo ventiquattro E come Gesù usciva dal Tempio e se n'andava, i Suoi discepoli gli si accostarono per fargli osservare gli edifizi del Tempo, ma egli rispose loro, Lo vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata, e stando egli seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte, dicendo, Dici, quando avverranno queste cose, e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'era presente? E Gesù rispondendo disse loro, Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno sotto il mio nome dicendo, Io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Or voi, udirete parlare di guerre e di rumori di guerre, guardate di non turbarvi, perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Poiché si leverà nazione contro nazione, e regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Allora vi getteranno in tribolazione, e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a cagion del mio nome. E allora molti si scandalizzeranno, e si tradiranno, e si odieranno a vicenda, e molti falsi profeti sorgeranno, e sedurranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, la carità dei più si raffredderà. Ma chi avrà perseverato sino alla fine, sarà salvato. E questo evangelo del regno, sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Quando dunque avrete veduta l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge pongavimente, Allora, quelli che saranno nella Giudea, fuggano ai monti. Chi sarà sulla terrazza, non scenda per togliere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo, non torni indietro a prendere la sua veste. Or, guai alle donne, che saranno incinte, ed a quelle che allatteranno in quei giorni. E pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché, allora, vi sarà una grande affiliazione, tale che non v'è stata l'uguale dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma, a cagion degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Allora, se alcuno vi dice, il Cristo, eccolo qui, eccolo là, non lo credete, perché sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti, e faranno gran segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono, eccolo è nel deserto, non andate. Eccolo, è nelle stanze interne, non lo credete, perché, come il lampo esce dal levante, e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del figliuol dell'uomo. Dovunque sarà il carname, qui vi si raduneranno le aquile. Or subito dunque la filiazione di quei giorni, il sole s'oscurerà, e la luna non darà il suo splendore, e le stelle cadranno dal cielo, e le potenze dei cieli saranno scrollate. E allora apparirà nel cielo il segno del figliuol dell'uomo, ed allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio, e vedranno il figliuol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria, e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli. Or, imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri, e metto le foglie, voi sapete che l'estate è vicina, così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano accadute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quant'è a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli dei cieli, neppure il figliuolo, ma il padre solo. E come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figliuolo dell'uomo. Infatti, come nei giorni innanzi al diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e se ne andava marito, sino al giorno che Noè entrò nell'arca, e di nulla si avvide la gente, finché venne il diluvio e portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del figliuolo dell'uomo. Allora due saranno nel campo. L'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al molino. L'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in qual giorno il vostro Signore sia per venire. Ma sappiate questo, che se il padron di casa sapesse a qual vigilia il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe forzare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figliuolo dell'uomo verrà. Qual è mai il servitore fedele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici per dar loro il vitto a suo tempo? Beato quel servitore, che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costruirà su tutti i suoi beni. Ma se gli è un malvagio servitore che dica in cuor suo il mio padrone tarda a venire e comincia a battere i suoi conservi e a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa, e lo farà lacerare a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti.